Il procurement sia l'interfaccia tra l'azienda e tutto il resto del mondo e perché in questa maniera tramite il procurement il MSC Crociere possa acquisire le innovazioni e lo sviluppo di tutto il mondo. In questo senso il procurement diventa di livello diverso, di qualità diverso da una funzione che ricerca commodities a una funzione di vero valore aggiunto aziendale. Grazie a tutti.